Contaminazioni molto interessanti, le suggestioni, suono, luci e poi l'innovazione con la tradizione. Tutti abbiamo notato come la tecnologia informatica si lega alle immagini delle maioliche siciliane, dell'arte più tradizionale, oltretutto in una location meravigliosa, in una serata davvero invitante che ci riporta anche a socializzare. Qui abbiamo una performance che vede perfettamente coniugarsi nella tecnologia, nella musica e anche in una location assolutamente unica e straordinaria, semmai sono gli altri che devono abbassare un po' la guardia e la diffidenza e andare a vedere di fatto cosa è la Sicilia in questo luogo e in altri posti. Dietro le immagini intanto sono delle scansioni 3D di persone reali, sono delle sculture virtuali vestite di pattern che ho ridisegnato apposta, riprendendo quelli che sono i motivi delle maioliche, delle ceramiche tipiche siciliane. Il tutto all'interno di una sala con degli specchi che creano un gioco, spero un gioco che diventi veramente uno spazio dove si possa perdere o ritrovarsi se così si vuole, visto che c'è questo senso di vuoto e di pieno allo stesso tempo.